Buongiorno, buongiorno dal dottor Claudio Saracino, da Benessere Ipnosi Eoluzione, l'ipnosi di CS, vera e professionale con la V maiuscola. Oggi rispondo ad un signore di Lisbona che mi chiede, dottore, perché parla di arte quando parla di ipnosi? Beh, l'ipnosi è un, secondo il mio pensiero, è il pensiero della mia associazione Ipnologi Associati di Los Angeles Beverly Hills, e un rilassamento della mente e del corpo dove tramite suggestioni, aggiungo positive, si cambiano le immagini da negative a positive. E l'ipnosi di CS, vera e professionale con la V maiuscola, prima di essere scienza, è arte, perché tutti sanno dipingere, ma non tutti sono artisti, rifetti a queste parole. Io conosco molta gente che viene da me, mi scrive, ipnologi, ipnotisti, mi chiede cosa dire, cosa fare, come comportarsi per un caso X, Y, Z, però in ogni parte del mondo succede questo, perché? Perché non sono degli artisti dell'ipnosi vera e professionale con la V maiuscola, conoscono come accendere la macchina, conoscono la teoria, ma non sanno come operare, un po' come ero io, quando mio padre fu colpito nel 2008 da un ictus molto grave e fulminante che lo ha paralizzato per la parte destra del suo corpo, io provai ad ipnotizzarlo, ci riuscì, lo mandai in una trance profonda, uscì acqua dal naso, mi spaventai, mi fermai perché da sbarbatello, da autodidatta, non sapevo cosa dire. Poi ho incontrato la dottoressa Rina Brunini su internet a più di 11.000 km di distanza da Los Angeles Beverly Hills, e lì la mia vita è cambiata, mio padre in 30 minuti ha lo schiocco delle dita su Skype con un computer ciofeca, eccetera, eccetera, una connessione ciofeca, non partecipava, non ascoltava, non sentiva, non vedeva, era una larva, un vegetale a tutti gli effetti, la dottoressa è riuscita a farlo di nuovo, alzare dalla poltrona e a camminare dopo due anni di letto con piaghi di decubito in tutto il corpo. Ed è lì è iniziato il mio viaggio del salmone, possiamo dire, ho fatto da assistente la dottoressa Brunini, Rina, ho conseguito un master avanzatissimo in ipnosi clinica, con la dottoressa Rina Brunini, il professor dottore Michelangeli Garai, e io non avevo visto nulla del genere, e non ho visto nulla del genere neanche ad oggi, è come metodo, è come suggestione, e il sottoscritto da più di 12 anni si ipnotizza a certi livelli, come anche in questo momento sono ipnotizzato, dal 2008 ad oggi, perché mi sento benissimo, ok? Per cui, riassumendo, l'ipnosi è a tutti gli effetti l'ipnosi di CS vera e professionale, un'arte, devi saper dire e creare le suggestioni di CS, a parte il metodo di CS unico al mondo, in modo da avere l'arte nelle mani. e il professor dottore Michelangeli Garai e la dottoressa Rina Brunini erano e sono degli artisti e saranno per me i miei mentori, i miei associati, i miei amici per l'eternità, non li dimenticherò mai finché sono su questa terra. La mia mission non è quella di vendere audio mp3 di CS, che ti puoi scaricare liberamente su ogni dove, sulle mie piattaforme, sul sito dell'associazione Ipnologi Associati di Los Angeles Baby Hills, ma la mia mission è quella di divulgare il mio metodo di CS, che non ha uguali nel mondo, perché grazie a Dio sto bene per le prossime 37 vite, ragazzi, non lo dico per vantarmi, ma per ispirarti. Partito da studente, lavoratore, senza una lira in tasca, vicino Milano, in quel di Modena, ok? Non credere a nessuna parola del sottoscritto, però sappi che l'ipnosi di CS vera e professionale, prima di essere una scienza perché riconosciuta dall'Associazione Medica Mondiale nel 1958, è arte, arte con la A maiuscola. Fammi tutte le domande del caso, ti risponderò gratis, compatibilmente ai miei tempi e ai miei impegni, visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com, la mia fanpage su Facebook, ipnosi, ipnosi del dottor Claudio Saracino, iscriviti a questo canale YouTube, benessere, ipnosi, soluzioni di CS del dottore Claudio Saracino, e fa share, condividi con amici e parenti perché può essere quel quid, quella molla, che gli può cambiare la vita come è successo almeno nel 2008, a centinaia e centinaia di persone aiutate dal sottoscritto in tutto il mondo, e seguimi anche sugli altri social, Instagram e Twitter, benessere, ipnosi, soluzioni di CS del dottore Claudio Saracino. Un bacio, un abbraccio, amico mio, amica mia, e alla prossima, ciao.